In questo periodo dell'anno era solito intravedere nelle campagne del nostro territorio l'inizio della lavorazione del grano, ovvero la mietitura. Le spighe con loro colore giallo intenso erano pronte per essere trebbiate dalle mietitrebbie di ultima generazione. Ancora però è presto per parlare di trebbiatura del grano a causa delle piogge e del lungo maltempo dei mesi scorsi che hanno segnato quest'annata a gradia in corso causando ritardi in alcune regioni. In base alle condizioni climatiche abbiamo visto che su Pesaro forse avremo dei cali del 5%, frumento duro che abbiamo avuto l'anno scorso a livello Marche, 4 milioni e mezzo di quintali di frumento duro, si pensa a un 5-10% di calo. Su zone come l'Anconettano, la zona di Osimo, dove le grandinate di un mese e mezzo fa, due mesi fa, hanno allettato i grani e quindi hanno abbattuto tutta la coltivazione, ci sono dei cali molto più importanti perché di fatto il rischio è che non arriverà proprio a maturazione. Però ancora è tutto fermo? Sì, ancora è tutto fermo, siamo sui blocchi di partenza, stiamo iniziando a raccogliere, a trebbiare i primi orzi, proprio si è iniziato ieri. La stagione di fatto ha avuto un inverno difficile, la piovosità non è stata, le piogge non sono state costanti, il freddo è arrivato tardi e di conseguenza in tutte le culture incontreremo delle difficoltà evidenti. Le rese del grano quindi sono soddisfacenti ma è ancora presto per trarre conclusioni sulla qualità. Già, perché mentre in alcune regioni del sud le macchine agricole stanno completando il loro lavoro, in diverse aree del centro le operazioni sono in ritardo, mentre al nord le macchine sono ancora ferme. Quest'anno si prevede una trebbiatura che andremo a sforare la quindicina di luglio anche e anche, poi con l'arrivo comunque di un giugno prepotentemente caldo, adesso forse il tempo si comincia un po' a accorciare e diciamo che in collina ancora ci saranno una settimana dieci giorni, mentre qui da noi nell'areale qui del fiume Metauro a giorni si dovrebbe partire. Come prevedete questa stagione? Ma diciamo adesso dalle prime avvisaglie, a parte qualche campo di ringrano che se n'è andato con il mal del piede, ma in genere i campi dovrebbero essere, adesso è tutto da vedere la qualità perché con il discorso di tutta questa pioggia anche a livello proteico può darsi che il grano sia sceso, però come resa non dovremmo essere, diciamo via che non si prospetta un'annata non proprio eccezionale, ma non direi neanche proprio da buttare, insomma via, su valori medi.